In questo leggendario video di calcio Ciao raga L'ho sentita Ma io stai attenti Animalini male 100.000 mi piace Per il prossimo video di calcio Appena li raggiungeremo ve lo caricherò Godetevelo tutto e buona visione Tira sta botta sulla traversa Pronti ragazzi ragazzi sono Anima e bentornati In questo nuovissimo video Siamo tornati finalmente sul campo da calcio In compagnia di tutti i mates Ciao freddo non muoio Comunque finalmente siamo tornati qua sul campo da calcio Con delle challenge assurde Come potete vedere ognuno di noi Pranne Tudor Tu non è in pensione Qual è il problema? Non ci vede di suo Abbiamo degli occhiali Che adesso cercherò di farvi vedere Tipo stranissimi sono una roba tipo da lettura Ma si vede tipo al contrario Per guardarsi i piedi è così Si così vedo la palla Io in questo momento mi sto guardando Abbassati Aspetta abbassati Che lavoro sta succedendo? No raga Ad acquassino nei tuoi occhi Vai 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 Ciao raga Quindi praticamente bisogna decidere Se guardare la porta ma non potrei vedere il pallone Dove è per calciarlo Oppure dovrei guardare il pallone ma non vedrei la porta Vabbè raga l'obiettivo è o segnare o prendere la traversa Aspetta mamma che ti accompagna Ok così guardo la telecamera Questa dovrebbe essere l'hype side sotto sopra challenge Varemo schifo Visto che Tudor sarà in porta e dovrà parare Chi fa gol becca un punto Chi prende la traversa Quindi rischi anche di buttarla fuori Tre punti Ok dai Che vinca il peggiore Che facciamo a caso guardiamo il piede o giù Vai Vai Oh Ma non vale È gol però non è traversa zi Vale un punto Hai preso palo o gol? Ma raga ma io aspetta mi son cagato dosso Stavate guardando un altro pensando che la palla era schizzata in aria Ma Tudor non è buona niente Come fa a pararne una impossibilità Tu non fa cagare Ma sei ridicolo Fai schifo Ma raga io non so poco in porta Fai schifo Fai schifo Fai schifo Tira sta botta sulla traversa È fuori Sascha Dai traversa questa è traversa Tudor Tudor ma stai acceso nella porta Oh Oh quasi Va beh Due gol Raga mi sta vedendo il vomitello È tipo come quando ti invertono i comandi sulla Playstation Uguale Parino puntata a traversa Oh dai finalmente vedo la porta Che tira piano Che bella raga Non prendo mai una Non ho capito Vai Presta il brand Vai dei co***i Vai Culo Aspetta che un po' di scontra Arrivo raga Mi sono Raga questo video si chiamerà la drug football challenge Perché mi sembro drogato a manitta No raga veramente guarda che non stai a scherciare I grutti sono tutti spontanei Cioè ci sta venendo la nausea Sembra Sembra quello campionato su call of duty Che cammina tipo così Capiscono dove sta a scherzo è sto bagnone Fuori Il mondo Oh mio dio no Dai stefanino Vai ste l'ultimo No Ti a destra Aia Non riesco a prendere Il problema ragazzi È che il senso di disorientamento Continua ad aumentare Dai stefanino Traversa Ce l'hai Ce l'hai Oh quasi Dai tiro io raga Sembro il gatto con il cinese Palla a me grazie Ehi le palle tutte Giuseppe ragazzi Mi raccomando in direct Oh mettiti la maschera coglioni Eh oh te devi fa solo quella cosa Devi mettere la maschera e devi parare i rigori Bravo ma dai la pizza così fai tutti i gol La raga mi sta venendo Oh vecchio Sì o te sei partito da tre minuti Vai Ha parato Non pari niente a fare le mie palle Vai vecchio Vai Giuseppe Dai che lo fai Che ha detto che non conta Ti ho detto niente papà Io sto a posto Che è successo? Ma che cazzo è successo? Ma che cazzo hai trovato secco? Vai papà Sei una merda Mi sto a fare arrivare Ma io te l'ho fatto Stai fare aiuto Mettimi giù Che cosa sto succedendo? Tocca a surri raga Siete pronti ragazzi? È il nostro momento Oh Caglione Che cazzo Eccomi Il palatore di Tudor Il sole Si Guarda a guardare il sole Oh Oh Non vale Non vale Non vale Perché non vale? Ho detto anche se di qua Oh Il palo Traversa Ma è gol Questa non vi sta proprio bene È l'unico a zero punti Avete presente tipo i perushiraptor Che stanno tipo così? È uguale C'è il collo in criccato Tu sei stato avvantaggiato E hai tirato per primo Che cazzo lo dici? Che cazzo lo dici? Non c'è il palo Non c'è il palo Non c'è il palo Ehi palo È il palo Palo Come il palo? Palo non può da un cazzo No Iii Ia Oh Raga così sto guardando le nuvole Quella là esattamente Ok devo calciare Maria Stiamo attenti Bisogna tenersi gli occhiali con le mani Ah 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 Noi si tira un calcio in faccia da solo Oddio Il gol Non è venuto a far gol così Ma no tu da me la parallela è parata Perché a lui no? Perché la centrale è la tua Non è per me Cristiano Ronaldo guarda questo video No mi vieni parare Oh Ascemo Ma lo vedi che tanzioso Ma para Vai oh Ah che ce l'hai fatto Buona ricorsa ha parato Oh attenzione Oddio Ma come fai? Ma è impossibile Gira via la telecamera Oddio raga sembra guarda sembra Oddio è successo un qualcosa di bruttissimo Guardalo non ci crede neanche lui Oddio Oddio Tu d'or ti spacco il culo Oh Quasi Quasi Stefaneno Bravo però Sei di 90% No 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 Ti ho preso Ti ho preso No Oddio Oddio Non è da lontanissimo Eh Guarda Non temi una V Eh eh No Dudo Sparacela Oh Ma vedi che le farà a tutti a me Oh Goal Bellissima però Questa era bella raga L'ho sentita Qua sentito l'effetto che girava all'aulio e benji Gira 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 No raga Vai tutti al contrario Eh noi che cazzo vediamo Oddio Oddio raga è ancora più bello guardare così però A destra Davanti Eccola, eccola! Ma dai, è facile! Bello! Raga, tre gol ci stanno! Lesbiche! Oh! Goal! Tirate la centrale, io non mi muovo più! No, no! No, no! No, picchiate Tudor! Perché quelli di prima no! Madonna, se faceva gol pure così! Attento! No! Questa è l'ultima! Raga, se questo video arriva a 100.000 like, facciamo una partita di calcetto con gli occhiali scocciati in testa! Qui indietro! Eh no! Questo non l'ha ripreso manco la telecamera, era fuori campo! Allora, facciamo così, tira Tudor e parliamo a giro! Eh, con i bacchiatura lo voglio chiesto forte, eh! Ma che cazzo, Raga, Tudor, se piglia la porta è pure assai, dai! BAM! Oh! Oddio! Raga, me l'ha fatto! Dai, Tudor! Oh! Nooo! Tudor, sei già a fare merito con Surrey! Faccio una barabona, questo! Oh! L'ha detto! Oh! Oddio! Oh! Oddio! 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 Ma che cazzo passa? Hai il cecchino, Raga! Cioè, siamo nelle mani di Surrey, se no fa quattro gol! Rovesciata questo? Ti metto le mani in faccia, se ci riesco! Cazzo! Mamma, questo è per te! Scusate, vi hanno detto da fuori che hai ragione, il quarto tiro si fa al contrario! Mi piace! No, prendi la ricorsa, bastardo! Ma non lo vedo! No, vai dietro, sto cazzo! Vieni qua, Giuseppe! Vieni qua, Giuseppe! Anionale, animale! Questo video può concludersi qua, spero davvero che vi sia piaciuto! Come potete vedere, forse abbiamo messo il montaggio per farvi capire un po' T'ammazzo! Per farvi capire un po' come guardavamo noi da questi occhiali! Comunque, raga, Tutor è entrato nella squadra e Surrey è stato boicottato a portiere! Sono più contento, raga! Arriviamo a 100.000 mi piace per il prossimo video di calcio! Già l'ho spoilerato il prossimo video di calcio! Condividete anche il video se vi è piaciuto! Passate tutto a tutti i cari dei mates, dal cari di Tutor! Questa sotto a vedere nel punteggi, che non sappiamo anche noi come sono finiti! E noi ci vediamo in un prossimo video! Stay Angry! Stay Animals!